Grazie a tutti F***a basta che è l'assunta o? Madonna, basta che è l'assunta o? Basta, bravo a muoverti avanti e indietro appena Vittorio e Marco basta Ecco adesso, muove parecchio il ponte, è normale Oh ma hai i puntoni sboccolati? Hai i puntoni con le prescine davanti o niente?